Oggi nuovo faccia faccia tra Giorgia Belloni e Ursula von der Leyen e il premio italiano riceve la Presidente della Commissione Europea Palazzo Chigi numerosi temi sul tavolo, il dossier migranti sul quale l'Italia porterà probabilmente una propria proposta al Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio e che dalla Commissione si aspetta sossegno rispetto alla regolazione e ridistribuzione degli arrivi di extracomunitari senza premesso dentro i confini della UE. E poi c'è il PNRR, continuano i negoziati con i quali Roma tende a rimodulare sul rassante finanziario dei contenuti parte del piano di ripresa e resilienza finanziato da Bruxelles.